Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Quasi un anno fa, con tutti i 3 DLC che poi sono stati rilasciati, quindi si parla di una quantità di decine e decine di ore. Premetto, questo non è il mio gioco base, nel senso che non è il mio gioco tipo, anzi potrei dire, perché ho giocato giusto qualche Dark Souls molto base base, ma ho giocato molto di più Elden Ring, ma qui arriviamo dagli sviluppatori di Nioh, quindi parliamo di qualcosa più action, ecco. Possiamo settare il nostro personaggio, adesso questo lo farò abbastanza veloce, perché voglio iniziare subito e spiegarvi un pochino come funziona il gioco. Il gioco ha delle meccaniche interessanti, molto action, lo sto giocando adesso con il pad, anche se nella prima partita che ho fatto mi sono buttato sulla mouse tastiera, che è giocabile, cambiando con un compromesso di qualche tasto, soprattutto la parata che è messo sul tab, io ho messo invece sullo shift, direi che il personaggio mi rispecchia abbastanza e possiamo iniziare. Ci troviamo in Cina, siamo verso la fine della dinastia Han, mi pare, e si parla di questo elisir che è in grado di dare la vita eterna, però in sintesi siamo nei tre regni cinesi dove stanno arrivando i demoni. E in sintesi non è un open world, e questo ci tengo a dirlo subito, perché anch'io ero, diciamo, in dubbio, è un open world o meno, no, non lo è. La particolarità di questo gioco, che è fatto a, vabbè adesso noi non la potremo vedere, ma la vedremo più avanti, c'è una mappa di gioco dove pian piano andremo avanti con la storia, potremmo tornare nelle location e potremmo fare svariate missioni primarie e secondarie. La particolarità di questo gioco è che noi abbiamo la nostra arma, vedete, che poi possiamo andare a cambiare con l'equipaggiamento, che breve poi andremo ad aggiornare perché avendo la versione completa ci sono dei pezzi di armatura base. La grafica potrebbe essere anche più bella, ma in realtà io ho attivato la grafica automatica, quella che mi garantisce tot frame, a discapito della qualità, quindi vedete che è tutto un pochino blurato, un pochino annebbiato, ed è un compromesso per tutti i PC. Il mio dovrebbe reggere il dettaglio ultra, ma voglio evitare per la registrazione di incappare in rallentamenti. La particolarità di questo gioco è che è basato su dei punti, diciamo, li chiamo punti coraggio e punti morale, insomma si chiamano. Vedete questo zero al centro dello schermo? Vedete sopra la barra della vita verde? Quello sale man mano noi uccidiamo nemici e più sale più siamo forti e meno danni subiamo al nemico. In alto a destra invece notate che c'è un altro numero con una freccia che punta verso il basso, quelli sono i punti coraggio. I punti coraggio determinano il minimo con cui noi torniamo in vita in caso di morte di punti morale, questi qua sotto in pratica centro schermo. E noi possiamo andare ad aumentare questi punti coraggio mettendo quelle bandierine che vedete subito sotto i punti coraggio in alto a destra vicino alla mappa, con quei... ci sono 0-3 bandierine piccole e 0-3 bandierine grandi. E le bandierine grandi sono i punti in cui potremo comunque riempire le nostre fiaschette di cura come succede nei souls, in cui potremo riposare e livellare, mentre invece quando sbloccheremo quelle bandierine piccole potremo semplicemente curarci. Ora abbiamo l'attacco di spirito con la Y e l'attacco con la X, quindi vedete che ho... e la parata. La parata, vedete, lui ha punti 0, quindi noi non siamo molto diversi da lui, insomma. Con il tasto grigletto destro si depredano varie cose che poi serviranno anche nel crafting e continuiamo la nostra battaglia contro questi bravi. Allora, praticamente una caratteristica fondamentale di questi giochi, io non sono un esperto ma lo ho appreso, anche le mie spese è il Perry, quindi la possibilità di parata. Vedete che se io paro il momento giusto lo stordisco e ho un ottimo vantaggio. Il gioco non ricorda molto un souls, ma ricorda molto Nioh, appunto, quindi un qualcosa che è più simile a un Sekiro, e io so che a proposito di Sekiro mi state ancora prendendo per il culo oggi. Deviare gli attacchi con il B e subito dopo fare un altro, una... primerlo ancora una volta, quindi io adesso lo faccio. C'è questo tizio, io adesso non vi ho detto nulla della storia perché non è mia intenzione, c'è questo tizio bendato, cieco, che ci sta guidando in questo inizio avventura, io non dico nulla. E sappiate che adesso arriveremo alle prime bandiere, quindi ci chiariremo qualche dubbio, però in ogni mappa in cui noi arriveremo avremo modo di andare dritti all'obiettivo che vogliamo raggiungere, ma anche, qua accorcio diciamo, creando una scorciatoria, e avremo modo, dicevo, di farmare questi punti coraggio, punti morale, che ci consentiranno di diventare più forti. In sintesi, e questo non lo dico io, vedete il grado morale, la forza in combattimento, 0, 1, 5, praticamente quelli lì sotto sono già di livello 3, io sono di livello 1. Dicevo la frase che non l'ho detta io, ma il farmare questo grado, questi punti morale, sono, questo me le ha suonate, però io ho fatto una parata, adesso. Sto colpendo un po' a caso senza fare neanche la parata, infatti me le sta parando tutte lui, ma sono riuscito. Ok, dovrei curarmi, quindi premo su e uso la fiaschetta, vedete in basso a sinistra, ho la possibilità di passare da un oggetto all'altro. E equivale quindi a sbloccare una sorta di difficoltà facile, perché se io farmo, uccido nemici, anche che non sono sul percorso principale, aumento questi punti morale e divento più forte, faccio più danno, subisco meno danni, quindi mi facilita un po' la vita. Il mio senso dell'orientamento è veramente scarso, però mi sono curato abbastanza. Qua continua a dirmi di fare il perry, io lo farò. In questo caso io l'ho fatto abbastanza facilmente e sono sopravvissuto. Bisogna entrare, ed è un consiglio che ho visto dare da tanti youtuber, entra subito nell'ottica di fare il perry, perché la parata normale non serve a nulla. Questa serve, ma non più di tanto, insomma. Questo invece non so cosa sia. Ok, questa è una bandiera. Questa è una delle prime, è l'asta della battaglia. Quindi vedete che adesso salirà in alto la bandierina, quella un po' più in alto, uno su tre. Qui possiamo andare a riposare e possiamo andare anche a potenziare usando i punti vitali, la forza vitale, che è quella che raccogliamo uccidendo i nemici, quindi le rune di Elden Ring o le anime di Dark Souls. E qui, andando a potenziare, possiamo, vedete, spendendo dei punti, potenziarci. Questo ci resta. Come caratteristiche queste ci restano, da una mappa all'altra, da un livello all'altro, perché ho detto non è un open world, ma in ogni mappa ripartiremo da zero per quanto riguarda i punti coraggio e i punti motivazione, insomma, quelli lì. Preparativi di battaglia, non so cosa sia, non so onestamente se si sbloccheranno andando avanti e a breve poi sbloccheremo anche gli incantesimi di stregoneria che non abbiamo ancora, c'è tutto un albero dedicato a vari tipi di magia. Intanto continuiamo, continuo ad andare avanti, ci siamo anche curati, abbiamo ripristinato le fiaschette, quindi... Intanto io ho raggiunto il grado 2 e in alto vedete che sono grado di punti coraggio 2, quindi se io morissi rimarrei comunque a 2, non posso andare sotto quel minimo lì. Adesso qua dovrebbe essere... Ok, qua c'è una bandiera di segnalazione, vedete che qua siamo saliti, è salito il punto di coraggio a 3, quindi qui ci si cura e basta, non c'è modo di fare altro. Ma il nostro interesse, prima di arrivare alla fine di questa missione, perché tutto comunque è fatto a missioni, quindi guidato a incarichi da fare, boss da sconfiggere, quindi non c'è un open world. Però ecco, il bello potrebbe essere anche tornare sui nostri passi, tornare su mappe già fatte per farmare... Ecco, per dire, questo non l'avevo mai visto prima, non ci sono stato qui prima. Vediamo se riesco ad abbatterla. Questo è un grado 15, quindi direi che non è il caso. Infatti io sono morto improvvisamente. Questa non l'avevo vista. Comunque io avevo, credo, già i punti che mi servivano, quindi insomma non ho... Perdo punti morale e metà della forza vitale. Quindi la forza vitale, che sono i punti le anime, le ho persi la metà. Gli altri invece sono a 3 e sono rimasto a 3, quindi vedete che non ho modo. Ovviamente il nemico... Devo, diciamo, effettuare la mia vendetta su quel nemico e se io vado e lo batto, guadagno tutto quello che ho perso alla prima tentativa. Cosa che non farò adesso perché era di un livello improponibile. E comunque non ho perso gran Halo, li rifaccio, li rifaccio queste cose. Solo che è un po' fortino quello, cioè io non mi pare di essere venuto di qua la prima volta che ho fatto, non lo so. Infatti mi sa che sono andato da tutta l'altra parte. Infatti sono andato di qua. Proviamo il pari. Vedo come mi riesce bene il pari. Ma sono anche abbastanza semplici questi da fare. Perché c'è anche un ramo di furtività che non ho mai... Dovrei capire a cosa serve. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Curati, curati. Devo far vendetta contro quello lì. Infatti vedete che la mappa a me sembrava finita, ma in realtà no. Perché? Perché sono arrivato al boss finale la prima volta con grado 10. E grado 10 io l'ho perso. E mi son detto, ma cavoli, come faccio a batterlo? E in effetti, battendo quella bestia di prima, probabilmente raggiungerà un livello abbastanza alto da poterlo battere agevolmente. Comunque, andiamo avanti. Vedi qua. Prendo anche questo. Uno di loro avrà... Eccole là. Intanto iniziamo con questi. Questo è andato. Facciamo anche questo. Continuo ad attaccare con una cosa sola. Non ho ancora visto incantesimi né nulla, ma... Questo l'ho parato benissimo. È tutto eccessivamente action. Poi sicuramente... Non lo so, io... Vedete, vendetta ottenuto, ho ottenuto quello che avevo prima. Ho un'altra asta della bandiera di segnalazione, quelle base, quelle normali. E lo trovo comunque un po' più semplice rispetto a Sekiro. Nioh non l'ho mai giocato. E qua abbiamo invece una bandiera di quelle maggiori, quindi possiamo andare a rimetterla qui. E non so se dormendoci, insomma, riposandosi e rigenere i nemici, ma questo lo scopriremo subito. Vado a potenziare, vedete, non mi è neanche comodissimo capire cos'è la virtù di legno e di fuoco di non dare a leggerle. Difesa spirito, posso potenziare anche questo. Potenziamo anche questo. Non ho ancora... Ok, ho sbloccato gli incantesimi di stregoneria, che è quello che volevo farvi vedere. Vedete, questi sono gli incantesimi di stregoneria, che però io vado a sbloccare e lui mi dice Completa questo, quell'altro, non so che cosa devo completare in effetti, però posso prendere questi primi incantesimi qua. Incantesimi di fuoco, prendo. Genera un'eruzione di fiamme davanti a te. Posso prenderlo? Sì. Uno solo. Va bene, ne ho preso uno. Posso impostarli. Lo imposto lì. Bagliore folgorante. Ovviamente non bisogna approcciare questo gioco con la presunzione di dire voglio un open world, non è un open world, non lo gioco. Non è questo il discorso. È un gioco che comunque fa molto affidamento sulle skill del giocatore e dà le sue soddisfazioni. Cioè non è che, ok, potete facilitarvi la vita potenziandovi il vostro grado, ma se siete scarsi con il pad c'è poco da fare, insomma. Però, farmando, andremo a migliorare il nostro grado. Adesso io continuo di qua. Voglio provare quello. Dice RT. Io voglio provare. Io posso selezionarne uno, no? Vorrei bere la fiaschetta. Però non mi fa usare la magia, perché? Right trigger. Ah, ok. No. Ah, e la Y. Ok, 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 ho capito. Ho capito. Proviamola. Adesso appena ce n'è l'occasione. Ma c'è qualcosa che non avevo visto prima. Infatti c'è un percorso che va anche di là. Arti marziali. Abbiamo anche le arti marziali. RB più XY. Ne ho già una. Le vedete lì in alto, in basso a sinistra, a destra, scusate. Sopra l'incantesimo. Quindi io premo RB e poi premo X. E lui mi fa questa scena, diciamo, automatizzata. Voglio bere. Ok. No, 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 no. Prego, no, mi scusi. Ma che cacchio, curati. Voglio provare. Ok. Il danno non è male. Però mi sta suonando come una zampogna. Fortuna che c'è il mio amico che mi dà una mano. Ovviamente poi si aprirà anche la parte multiplayer, dove potremo aprire lo spazio dei nostri amici e giocare in cooperativa. Adesso io ho ancora due bandiere da sbloccare. Una piccola o una grande. Voglio vedere se riesco. Ma è illimitata. Ah, no, è illimitata. Sì. Ho finito anche le fiaschette, quindi... E ovviamente muoio. Vi dico la verità. Io sono morto molto meno, giocando con il mouse e la tastiera. Quindi questo è un dato di fatto. Comunque, in alto, a destra, nella mappa, ci viene indicata dov'è la zona dove siamo morti. Quindi ci facilita un po'. Ma la cosa bella che sto notando, e me ne rendo conto perché io sono dato dritto al boss nella mia prima partita su questa mappa, mi rendo conto che la mappa è molto più vasta di quello che sembra. E, direte, grazie a cavolo. Certo, però ne sono piacevolmente sorpreso perché mi dà più motivazione a farmare. Allora, vedete che io adesso sono di grado 6, di 6. Qui sotto sono 7. Devo vendic... No, non credo sia la vendetta su questi che devo fare, ma... È un po' tosto quando ce n'è più di uno a schermo perché diventa molto confusionale la cosa. Comunque io una fiaschettina me la bevo a breve. Intanto mi luto questi oggetti. Ah, dovrei, mannaggia, andare a prendere gli oggetti alla... Di là, però. Di qua. Adesso io voglio fare una roba di questo tipo. Ma non è possibile, ho perso tutto! Ho perso tutto! Tutto! Vabbè, adesso dovrei andare... A risolvere il problema Riposando qui E prendendo Dalle consegne tutti gli oggetti che mi danno grazie i DLC Di questa versione completa Quindi, tecnicamente... Io adesso prendo un'armatura che mi piace Quindi premo così Vado qui Prendo quest'altra arma qua che mi piace molto Quello che fa più danno 125 Il podao inastato Prendo... Arme di stanza non ne ho Armature Prendo la zucca Quattro stelline Quindi sono belle Tutte dello stesso... Guardate come cambio di aspetto Accessori Ne ho uno solo, credo No, ne ho più di uno Registri grandi storici Che mi potenzia il danno legno lì Gancio da cintura Non li avevo io tutti questi, eh? Contratto con le viande, ok Qua ho l'incantesimo Qua posso metterne altri E ne ho un botto La cura L'elisir Aumenta temporaneamente il grado morale Perfetto Adesso vedete che sono Già messo un po' diversamente da prima E tecnicamente l'arma dovrebbe essere molto più efficace E dovrei usare vendetta contro quello che mi ha sistemato prima Adesso No, devo andare di là Intanto Questa fa un danno molto più ampio Non salto di là Ma voglio andare di qua Perché questo qui è quello che mi ha fregato le robe prima Che fa anche un bel danno Devo andare in parata Aspetto che mi attacchi Eh, sì Poi la persubisco Parato Stavolta Perfetto Vendetta ottenuta Ho perso Quelli che avevo perso la prima volta Pazienza 6, 6 Devo andare a Non si può pensare di giocarlo come un hack and slash E quindi continuare a cliccare Quello è quello che sto facendo Ma non è quello che si deve fare Eh, questo fa male Ok, è ora di sistemare Il tizio C'era qui Che ormai cambia arma Ormai tardi Eh, mettiamo E siamo anche a questa bandiera Bandierina piccola Ci curiamo Non ripristiniamo nulla In questo caso Dobbiamo andare avanti E sbloccare l'ultima bandierina Che ci serve Dopodiché Potremmo anche pensare Di tornare Quello è un boss È un boss Un micro boss Perché lì c'è l'ultima bandiera L'ho parato E come vi ho detto È tutto in base alla vostra bravura E c'è poco da fare Parato Ma vi dico anche Che il boss Il primo boss È diviso in due parti La prima parte Io l'ho picchiato Senza capire neanche niente E mi sono detto Cavoli se sono bravo La seconda Dopo la trasformazione Del boss Le ho parese Sonoramente Quindi Insiamo la bandiera E portiamo il nostro livello Più in alto Io sono arrivato Qui Al dieci 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 non è male Ma si potrebbe fare Anche di più Quindi potremmo andare A spendere La nostra forza vitale O come si chiama lì Al tempo stesso Qui Andando avanti Si può andare Ad affrontare Il boss Che è subito là dietro Adesso Sembro ubriaco Ma Ok Là sotto Che è un'ambientazione Che ricorda molto Il primo boss Di Sekiro Che non c'entra niente Con questo gioco Però me lo rievo Che in qualche modo Noi possiamo adesso Salvare la partita Ovviamente Andare In uno Dei Delle bandiere Potenziarsi Ulteriormente Cambiare Poi avremo La lobby online I rinforzi Quindi farci dare Una mano da qualcuno I preparativi di battaglia Non so cosa siano Si può cambiare Il tipo di bandiera Adesso non so Magari qualcuno di voi Lo sa Se ha voglia Di Dirmelo Ma quello che si può fare Adesso Che tutti i nemici Abbiamo già battuto È tornare giù E battere Quella creatura Di livello 16 E 15 Scusate Battendo quella Ma a parte che i nemici Si sono riformati Quindi Possiamo farmare E andare avanti Ovviamente Bisogna tenere conto Che Bisogna tenere conto Che adesso io Se non targetto Sono un po' in difficoltà Avendo ormai Sbloccato Tutte le bandierine Il massimale Delle mie Dei miei punti Morale Motivazione L'immorale Come si chiama Rimane questo Quindi Se io salgo All'11 All'12 All'13 E muoio Torno al 10 Comunque Quindi Posso mettermi A farmare Questo è stato Stupido io Che non è neanche Una brutta cosa Perché comunque Ci consente Di portare Tutti al nostro livello Dovremmo Il livello Nel senso Di bravura Nostra Quindi io posso Star qui Continuare A riposare Far rigenerare I nemici E far salire Il grado In modo da Il massimale Non salirà Quindi in caso di morte Tornerò sempre a 10 Come ho già detto Ma potenziando Quel grado Lì di Morale Potremmo andare Ad affrontare Il boss Senza Fare una brutta fine Adesso io ve lo faccio vedere Giusto così In conclusione Però È abbastanza tosto Abbastanza tosto Eccolo qua E lui è un 10 Come me Io dovrei fare Vedete che ho fatto Le arti marziali Dovrei andare Imparata Però vedete che non è Eccessivamente difficile Se sapete Controbattere Le sue mosse Il problema Arriva dopo Adesso io lo sano Di botte Ma arriva al punto In cui lui perde la vita Io l'ho anche parata Questa quindi Sto facendo anche parecchio male Mi curo Guardi l'ho parata Io lo batto Il problema è che Vedete io sono a livello 10 Quindi lui è 10 Nel caso in cui doveste morire Con il boss Ovviamente non potete Pensare di rifarmare tutto Ma li recuperate Nel momento Da quello che ho capito Nel momento in cui Tornate ad affrontarlo Vi restituisce Quello che vi ha tolto La prima sconfitta Se però morite E aggiungere il boss Quello è un altro problema C'è un problema Lui torna Più potente E questo è praticamente Magit Alla fine L'ambientazione è un dark fantasy Ambientato in Cina E adesso ancora 10 Ma non è così Non è così facile Come prima Ho fatto un doppio attacco E mi ha Mi ha suonato E niente Mi ha Sono morto Sono morto Ecco questo è il boss Il primo insomma Quindi il gioco Non è Propriamente facile Però Probabilmente Se raggiungessi Un grado 11 Un 12 Un 13 Magari battendo Più volte Farmando un po' L'esperienza Arrivo qui E lo abbatto Molto più facilmente Comunque Ringrazio ancora Quaritecmo Per la possibilità Di aver portato Questo titolo in video Spero vi piaccia Spero di avervi dato Una panoramica Abbastanza completa Di quello che sono Le basi del gioco Insomma Da quello che ho preso Vi ringrazio Lasciatemi qua sotto Nei commenti Un vostro parere Su quello che ne pensate A me gira bene Però Vi dico Io ho una 4070 Ti Ai E gioco in 2k In gira Piuttosto bene Il pc scalda Ma ormai scalda Per tutti i giochi Quindi C'erano tante recensioni Sul sistema di controllo Con la tastiera Sono molto meno Però secondo me È più agevole Con il pad Decisamente Quello lo confermo Perché io sono Sostenitore del mouse E tastiera Ma qui In questo caso Non ci sono dubbi Per me Vi ringrazio ancora Per la visione E alla prossima Ciao ciao